Il Marò pugliese Massimiliano Latorre, trattenuto in India insieme al collega Salvatore Girone dal febbraio 2012, ha accusato un malore che ne ha reso necessario il ricovero nel dipartimento di neurologia di un ospedale di New Delhi, dove tuttora è trattenuto in osservazione. A renderlo noto è il Ministero della Difesa, sottolineando che i sanitari si sono dichiarati soddisfatti di come ha reagito alle prime cure. Che bella notizia, mio padre all'ischemia, ha commentato su Facebook Giulia, figlia di Latorre. Sempre lei, ieri pomeriggio, ha scritto un nuovo post annunciando il miglioramento delle condizioni del padre. Mi ha chiamata papà poco fa, mi ha detto che sta meglio e che mi ama. Ma il fratello di Salvatore Girone, Alessandro, sostiene che la situazione sia abbastanza seria. Massimiliano ha avuto un ictus in una zona profonda del cervello, si è svegliato e ha parlato, ma non ha ancora recuperato al 100%. Vediamo nelle prossime ore e speriamo che tutto vada per il meglio. Ce lo auguriamo di cuore, ha concluso Alessandro Girone.